C'è stata questa sollecitazione da parte delle associazioni ma anche da parte del comune con l'assessore e quindi abbiamo fatto una serie di interventi che alla fine non sono particolarmente costosi ma sono dei piccoli accorgimenti che per chi ha disabilità possono però essere rilevanti. Abbiamo fatto una serie di miglioramento di scivoli, apertura di porte scorrevoli, dislivelli superabili in modo migliore insomma tutta una serie di piccoli accorgimenti che possono migliorare decisamente la vita e la mobilità di persone che hanno delle difficoltà. Accanto a questo poi abbiamo pure accolto la richiesta di spostare alcune delle commissioni invadi in un ambiente più decoroso che è il nostro poliambulatorio di modo che non si verifichino più quelle condizioni di iperaffollamento che avevamo nel vecchio palazzo della medicina legale. Il nuovo pronto soccorso comporta un investimento per lavori di 1 milione e 4, più somme a disposizione su circa 2 milioni che saranno ovviamente, queste somme neviteranno per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi necessari ma diciamo che sui 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6 realizzeremo un pronto soccorso con una superficie quasi doppia dell'attuale e con caratteristiche nettamente migliori rispetto al precedente pronto soccorso, all'attuale pronto soccorso che presenta ormai problemi datati sia di accessibilità, di fruibilità, spazi insufficienti quindi veramente un pronto soccorso che potrà caratterizzare l'ospedale Pescara con una superficie quasi doppia a quello precedente come un ospedale veramente accessibile a tutti e con una risposta immediata. Grazie